Immanuel Kant, estratti dalla fondazione della metafisica dei costumi Che un uso così innaturale, e quindi un uso improprio, dei propri attributi sessuali sia una violazione del proprio dovere verso se stessi e sia certamente in sommo grado contrario alla moralità, colpisce tutti al suo pensiero. Inoltre, il pensiero di ciò è così ripugnante che anche chiamare un tale vizio con il suo nome proprio è considerato una sorta di immoralità. Non è così per il suicidio, che nessuno esita a denunciare a tutto il mondo con tutti i suoi orrori, come species facti. È come se l'umanità in generale si vergognasse di essere capace di un tale trattamento che lo degrada anche al di sotto della bestia. Anche l'unione fisica consentita, in sé certo solo unione animale, dei due sessi nel matrimonio è motivo di molta sensibilità negli ambienti educati e richiede che venga calato un velo sull'argomento ogni volta che viene menzionato. Il fondamento della prova, della sua inammissibilità, sta sicuramente nel fatto che un uomo rinuncia alla sua personalità, la butta via, quando usa se stesso solo come mezzo per la gratificazione di una pulsione animale, ma ciò non rende evidente l'alto grado di violazione dell'umanità nella propria persona da parte dell'innaturalezza di tale vizio, che sembra nella sua stessa forma, disposizione, trascendere anche il vizio del suicidio. Il risoluto buttare via la propria vita come un fardello almeno non è un debole abbandono al piacere animale, ma richiede coraggio, e dove c'è coraggio c'è sempre rispetto per l'umanità della propria persona. D'altra parte, quando uno si abbandona completamente a un'inclinazione animale, si fa oggetto di gratificazione innaturale, cioè una cosa ripugnante, e quindi si priva di ogni rispetto di sé. La mia critica nel video successivo.